Ciao a tutti, come ben sapete sono rimasto folgorato dal mondo di Harry Potter alla veneranda età di quasi 25 anni, cioè tra qualche mese, però un quarto di secolo. Ho già la crisi di mezza età ragazzi, non sono più giovane, non sono più aitante, questa cosa mi deprime nel profondo. Se facessi il modello dovrei già essere in pensione, rendiamoci conto, depressione, depressione totale, comunque stavamo parlando in verità di Harry Potter, sto leggendo il calice di fuoco, non mettetemi così tanta pressa, è un libro lungo, cioè sono 620 pagine, non è che ci metto un giorno. Poi sto cercando di non divorarmelo, perché quando mi divoro i libri che mi prendono va a finire che li dimentico e non voglio dimenticarlo, quindi lo sto leggendo comunque abbastanza velocemente, ma godendomelo piano piano. Sono circa, no, sono un po' più della metà, ha un po' più della metà, quindi tra qualche giorno l'avrò finito, però me lo sto compensando pian piano, anche perché me l'hanno prestato e quindi non voglio portarlo in giro, perché non essendo un libro mio, se dovesse succedere qualcosa al libro non potrei perdonarmelo e quindi non lo porto in giro, lo leggo solo in casa. Però, dato che io leggo tanto quando sono fuori casa, sui mezzi pubblici, dalle poste, come ben sapete, io non ho voluto staccarmi dal mondo di Harry Potter e quindi ho letto due libri, sempre di J.K. Rowling, però sotto pseudonimo, che tuttavia rientrano nel magico mondo della scuola di Hogwarts. I due libri in questione sono due libretti, che probabilmente quasi tutti di voi conosceranno, cioè non solo in versione metafisica, diciamo, ma anche proprio in versione fisica, che sono Animali fantastici dove trovarli, di Newt Scamander, in realtà ovviamente sempre J.K. Rowling, e il Quidditch attraverso i secoli di Kenilworthy Wisp, non me lo ricorderò mai. Che cosa sono questi due libretti? Innanzitutto sono dei libretti, io ho qua il Quidditch attraverso i secoli, anche Animali fantastici e grande così, sono due libretti di 50 pagine all'uno, che veramente ve li leggete mezz'ora all'uno, ci vuole, cioè proprio rapidi, rapidi, felici, rapidi, che tuttavia ho amato tanto, perché si tratta di un ampliamento del mondo di Hogwarts che mi sta affascinando particolarmente. I due libri dovrebbero essere delle riproposizioni fisiche fedeli ai testi scolastici degli studenti di Hogwarts del primo anno, e quindi due pietre miliari dei testi scolastici dei maghi, il primo Animali fantastici e il secondo, il Quidditch attraverso i secoli. Ovviamente sono due libretti che si riferiscono ai fan della saga più sfegatati e che desiderano conoscerla più a fondo, ma allo stesso tempo è un viaggio breve ma affascinante, in quanto la forza della saga di Harry Potter è secondo me quella di costruire un mondo, che non è banalmente un mondo magico, ma è un mondo magico con migliaia di sfumature, ma che allo stesso tempo è in completa connessione con il mondo reale nostro. E questo rende questo mondo magico estremamente verosimile, credibile e affascinante per quel motivo. Ed è per quello che la saga di Harry Potter è l'unica saga fantasy che mi piace, perché pur essendo magica, pur essendo fantasiosa, rivela comunque una grande connessione col mondo reale e allo stesso tempo con anche le problematiche che vi ho illustrato nelle recensioni dei singoli romanzi e anche comunque una certa profondità, anche storica, perché comunque Animali Fantastici, lo saprete già tutti, è uscito anche il film, io l'avevo ordinato in biblioteca perché è uscito il film ed ero curioso perché è snaso forever. Tuttavia mi è venuto il panico perché questi due libri sono stati scritti in verità per buona azione, per beneficenza, per la comic relief. E c'è proprio l'introduzione di Albus Silente che ci informa che nel caso prendessimo il libro in biblioteca verrà scatenato un incantesimo antifurto, quindi io tipo... Però il problema è che mentre il 15 attraverso i secoli è ancora reperibile in libreria, Animali Fantastici è fuori catalogo e costa una vagonata di soldi, quindi io l'ho letto in biblioteca e ho paura del destino che incomberà. Animali Fantastici, tra i due libretti che comunque sono letture molto molto piacevoli, è il libro che mi è piaciuto di più perché si tratta appunto di un catalogo di studio sulle varie creature magiche e l'aspetto profondamente interessante è il fatto che si crei comunque un collegamento tra il mondo magico e la tradizione babbana, se vogliamo, no? Perché comunque, come ben saprete, nella saga di Harry Potter molte creature magiche sono creature in verità che sono dei topos della letteratura horror, dell'immaginario fantastico, dell'arte, ci sono tutte le fate, i vampiri, i lupi mannari, le streghe giustamente, gli unicorni, però vengono spiegate nel libro di Newt Scamander come molto spesso creando un confronto tra ciò che i babbani recepiscono di queste creature di corretto e ciò che invece hanno romanzato sulla realtà magica e a me ha fatto molto ridere, ad esempio, perché si fa riferimento alle fate, no? Alle fate, è un esempio, ma succede sempre. Ad esempio le fate, che sono anche nell'immaginario babbano sin da sempre, naturalmente, però nella realtà magica sono degli esseri totalmente inutili e infatti nel libro c'è scritto questi esserini non servono quasi a niente, sono sciocchi, esistono, sono innocui, mentre nell'immaginario babbano sono viste come creature fascinose, creature eleganti, in grado di parlare, in verità non parlano affatto. Quindi la cosa che mi è piaciuta veramente di Animali Fantastici e Dove Trovarli è questo catalogo, che sembra molto enciclopedico, anche perché tutti gli animali vengono classificati in ordine alfabetico con l'indice di pericolosità e domesticabilità, ma si crea sempre un confronto tra ciò che sono realmente nel mondo magico e ciò che invece i babbani recepiscono di determinate creature. Altre nell'immaginario babbano, ovvero di noi esseri umani senza potere, non esistono e quindi questo confronto non viene creato, però l'ho trovato estremamente affascinante e quindi ve lo consiglio, a me ha divertito molto come libro. Poi è scritto con questo piglio ironico, piglio ironico che si trova anche nel quidditch attraverso i secoli comunque, che invece è un manuale storico molto brevissimo, cioè si legge veramente in fretta, ancora più in fretta, Gli Animali Fantastici, ed è proprio una spiegazione delle regole base anche a livello tecnico, proprio da manuale sportivo, il campo deve essere lungo così, la palla deve pesare tot e si fa anche un breve recap del quidditch attraverso i secoli appunto, quindi sia a livello storico ma anche a livello geografico, prendendo in esame i cinque continenti. E a me ha fatto ridere molto perché oltre al fatto che ci sono sicuramente delle corrispondenze con ad esempio gli sport babbani a livello di creazione del campionato, ci sono anche dei momenti in cui si fa dell'ironia buffa sulle varie culture, ma senza... su come le varie culture reagiscono davanti al gioco del quidditch. Io sono scoppiato a ridere quando ho letto che la squadra giapponese, tipo presa malissimo da una sconfitta ha bruciato le scope come atto di perdita dell'onore, non lo so, e crea questo universo molto ironico, molto beffardo, però allo stesso tempo a modo suo credibile e ancora è una rappresentazione che convince sia a livello storico, perché comunque ci dimostra come J.K. Rowling comunque avesse nella sua mente un ampio mondo tutto da raccontare e da scoprire, cosa che è veramente sensazionale e che si dimostra anche al di là dei romanzi, c'è proprio una creazione di un universo che sembra non avere mai fine, è estremamente complesso, cioè... ed è troppo fico, troppo fico e interessante. E niente, questi due libretti ovviamente li consiglio ai fan della saga e ovviamente interesseranno solamente a loro, ma io li ho trovati super carini, divertenti, simpatici e anche molto interessanti e sicuramente ti fanno innamorare ancora di più del mondo creato dalla Rowling, sicuramente. Fatemi sapere se li avete letti, a me sono piaciuti, ve li consiglio, ci stanno. Io vi saluto, un bacione e alla prossima. Ciao ciao!